oggi scegliamo di aprire qualcosa che ci è arrivato vediamo che cosa vogliamo aprire se stampante A5M Pro A5M normale oppure il telescopio io sarei curioso di aprire l'A5M Pro voi dite perché? perché vediamo così come si comporta questa stampante perché dovrebbe essere un antagonista della famosa bambula vediamo un po' che cosa ci sta qua dentro sembra in manualetto sì un po' avendo visto gli unboxing online non so se si dice unboxing unboxing vabbè comunque spacchettamento in italiano lo spacchettamento vediamo che comunque queste stampanti diciamo un po' anche come la bambula il bustone che si tira fuori ci abbiamo manualetto con il servizio di assistenza e quant'altro la chiavetta da 16 gigabyte quindi abbiamo una bella pendrive da 16 gigabyte che passiamo già con i file abbiamo già qualcosa all'interno questo è un bello una bella protezione sono pronti ammoppate ho capito che è bello però alla faccia del bicarbonato di sodio eccola qui ammoppate è una bella stampante però piccola ma fatta bene qui e un altro buscio poi abbiamo uno scatolo allora c'è l'adesiva ah c'è la colla adesiva fissativo di stampa PLA BS ASA P&T G da 50 ml abbiamo un po' di bucole chiavette un portapropine il grasso abbiamo un nozzle completo di ricambio ok che questa flash e forge utilizza un sistema proprietario che di cambio nozzle immediato vabbè qui ci stanno un po' di cavettini e quant'altro un po' di cavetterie poi abbiamo cavo di accensione abbiamo un bel filamento PLA Burnt Titanium wow è bellissimo il colore guarda non so se si vede ma brilluccica di proprio di tanto questo stupendo quindi ci sono delle frecce questo wow c'è magnetico non so se si vede questo qua eccolo qua alla fine alla fine una volta sbloccate queste viti e messo il cavetto di accensione a posto c'è c'è poco da poco da fare abbiamo liberato tutti e quattro le viti qui abbiamo il tubo PTFE per inserire il filamento qui abbiamo qui il porta la filamento vediamo un po' ora vorrei provare a fare la prima accensione e vediamo cosa ci dice che ne dite voi? ci proviamo? facciamo la prima accensione comunque è ben fatta eh togliamo la pellicolina sta partendo questo è il classico suono di avvio delle flashforge però dipende dal modello non tutti i modelli hanno questo suono alcuni non lo fanno proprio beh a parte che si può disattivare solo quindi se non piace si può essere tolto senza nessun problema possiamo scegliere la lingua ovviamente l'italiano non c'è abbiamo tedesco, francese, spagnolo cinese, giapponese va bene preparazione di stampa ok richiede 9 minuti ecco ora sta facendo tutte le sue fasi di preparazione tutte le sue fasi di preparazione ecco qua è un po' da vicino quello che sta facendo ora sta facendo la calibrazione del piano ecco qui richiede circa 8-9 minuti per fare tutto la calibrazione e tutto quello che ci concerne tutto quello che c'è da fare diciamo allora prima ha fatto il loaming ora sta facendo il livellamento il livellamento del piano poi dovrà fare la vibrazione per riconvenzare le vibrazioni durante il movimento quindi con i sensori di movimento farà tutte le calibrazioni del caso però come potete vedere è molto veloce già nel movimento e apriamo qua e apriamo qua il diffusore per raffreddare velocemente vedete le vibrazioni aumentano poi abbiamo una porta però se chiusa si sente poco una bella porta usb capo di accensione ecco qui la ethernet uno schiocco di dita e abbiamo finito ha terminato il nostro filamento spaziale che voglio vedere una stampa con questo filamento come viene cioè è proprio bello non so se voi lo vedete ma questo filamento è proprio cioè bellissimo ecco qui allora lo mettiamo qua e dobbiamo caricarlo lo carichiamo qui carichiamo carichiamo fino a che non arriva dove devi arrivare vediamo un po' lo add allora ora sta facendo il preriscaldamento sta portando la temperatura a 220 gradi una volta che ha raggiunto la temperatura inizia a caricare il nostro filamento ha un flusso di stampa unico ecco qui qui ci dice loading completato premio e print e ora fa il cubo di test guardate cioè lo schermo è spettacolare cioè ora sta facendo tutte le sue vibrazioni calibrazioni cioè ora sale quindi ora farà un cubo test PLA test qui possiamo accedere a tutte le informazioni se non accendere e spegnere le luci è una cosa unica c'è già fatto c'è già fatto delire cioè in meno che si dica cioè in meno che si dica è ottimo è proprio nodro del 0.4 e sta costruendo spettacolare spettacolare dobbiamo fare pure la prova due o quattro cosa una bench due o quattro test particolari vediamo un po' che cosa ci sta e non abbiamo dovuto fare nulla eh nemmeno la calibrazione dell'asse z né una una cosa parte niente è finito cioè ha finito questo filamento è stupendo questo lo voglio cioè guardate cioè non so se mi rendete conto di quello che ha potuto fare ecco cioè guarda ora te lo faccio vedere eh cioè è stupendo ma il filamento è proprio bello non si vedono nemmeno i layer cioè è una cosa stupenda va bene questo unboxing unboxing spacchettamento come lo vogliamo chiamare e è riuscito quindi non ci resta che attendere i prossimi video per fare qualche altro test così vediamo un pochettino come si comporta con altro eh però vi metterò il link in descrizione per chi fosse interessato all'acquisto della stampante e con garanzia Italia quindi se volete acquistarla avendo la connessione in cloud porta ethernet e tutto rientra pure come bene di industria 4.0 per acquistarlo come industria 4.0 quindi che dire ci vediamo al prossimo video mi raccomando come sempre iscrivetevi al canale attivate la campanellina non ve lo dimenticate così più ne siamo più contenuti arrivano vi aspetto al prossimo video ciao ciao